Beh, non sarà la Sicilia, non sarà l'Italia, non sarà il mare caldo e l'estate italiana, ma qui ci siamo e quasi quasi Ranginui si sta levando dalle palle. Buongiorno Popone e buongiorno Cinzia. Questo è il mio controvideo per i vostri meravigliosi che sono su Youtube. Ero a casa un attimo fa e vi faccio un controvideo, giusto perché se voi avevate il mare meraviglioso, vicinissimo, bellissimo, caldissimo, solo per dirvi che questo mare ce l'ho anche io. Basta fare così, basta fare così, giusto per saltellare stamattina. Basta fare così. C'è sempre vento qui. E oggi il mare si è un po' ritirato. In genere giù in fondo lì si vede l'isola del sud, si vedono le montagne di Caicura. Oggi si vedono, ma con la telecamera non si vedranno, sono sicura. Si vedono e sono ancora innevate. E per favore pa, un attimo di silenzio, silenzio pa, ascolta il mare. E per favore. Così controvideo. E adesso, se hai un attimo di pazienza, torno a casa e ti faccio vedere quell'albero di cui ti dicevo. Si vedono le due isole del golfo di Wellington. Giù in fondo c'è Wellington e dritto per dritto abita Giuliano. Questa è una piccola isola e l'altra è l'isola, si chiama Somme Island. Ed è l'isola della quarantena della guerra, dove finivano tedeschi e italiani. Questa è la casa più bella del mondo. Vediamo se il tui c'è. Prima è scappato perché il gatto l'ha fatto scappare quello stronzo di gatto, rompi i coglioni. Allora, questo è l'albero di cui ti dicevo. Vedi i fiori? E i tui mangiano questi fiori. Ma questo è solo un albero piccolo. Ah, e questo è la barbao, la barbao ted. Ma, vedi? C'è molto più grande l'albero che c'ho. E il tui? Eccolo là. Eccolo, eccolo, eccolo là. Non mi fa zoomare ma sta lì e si sta smangiocchiando i fiori. E' bellissimo. E poi stanno crescendo queste piante. Non so che fiori siano. Magari tu lo sai. Magari mamma lo sa. Questa e ce l'è un'altra qua. Bello. Vediamo se il tui canta. Canta per te e per Cinzietta. Non so se riuscite a vedere. Ha una piuma bianca sul collo. Sì? E ora è preso, sta mangiando. Quando mangia sta zitto. E così ci siamo. Il controvideo finisce qui perché sennò YouTube mi caccia via. Io vi mando un bacio e me ne vado a lavorare. Vi abbraccio e come sempre vi aspetto qui. Ciao!